Musica Prosegue la scalata di Estra, società guidata da Francesco Macri con sede ad Arezzo all'interno di Sei Toscana, il gestore unico per la raccolta di rifiuti nelle province di Arezzo Siena e Grosseto e parte del Rivornese. Potrebbe infatti diventare sempre più concreta l'ipotesi di multiutility per Estra, che lo scorso 30 luglio aveva acquisito un 12% di Ecolat, società attiva nel settore ambientale del ciclo dei rifiuti in Toscana. Il Tribunale Civile delle Imprese di Firenze ha infatti stabilito che le società grossetane, soci di Sei Toscana, Ecolat e Coplat, reclamanti contro tutti gli altri soci di Sei Toscana per le modalità di ricapitalizzazione deliberate negli ultimi anni, avevano pieno diritto di compensare i crediti vantati verso Sei Toscana nelle procedure di aumento di capitale e collocamento delle quote, Tutto questo infatti gli era stato impedito e non solo i mancati versamenti, la sottoscrizione non effettuata aveva prodotto come effetto che le relative quote erano state acquisite da altri soci. Ora tutto è stato annullato, Coplat ed Ecolat hanno di nuovo il 24% di Sei Toscana. La posizione di Estra dunque nel capitale del gestore dei rifiuti della Toscana meridionale potrebbe rafforzarsi ancora di più. Si parla infatti di un passaggio del 100% delle quote di Ecolat ad Estra è di un forte interesse anche per quelle di Coplat, un'indiscrezione ancora non confermata. Ma intanto è stato convocato per il prossimo venerdì il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana che ha chiuso l'ultimo bilancio in perdita per 4,5 milioni di euro. Tutti i prossimi passaggi adesso sono dunque legati alle decisioni che verranno presi il prossimo venerdì all'interno del Consiglio di Amministrazione.